Buonasera, proveniente direttamente da Banchi, capitale della Repubblica Centrafricana, cuore di ogni inquietudini, di ogni purtroppo violenze del continente nero e quindi del mondo, Emanuele Tacconi, inviato a ONU, premio maceratese nel mondo nel 2015. Prima era stato nello Yemen, anche quello al centro di rivolte, rivoluzione, scoppi, violenze, morti, epidemie e a Djibouti e prima ancora in tanti altri posti, sempre al confine nel teatro del mondo che sempre di più si sta rivolgendo e sta chiedendo aiuto. Lui è uno che sta al centro di questa situazione, di questo dramma da 24-25 anni, avendo lasciato un bel posto nella serie centrale dell'ENI, dove aveva conosciuto, ha cominciato ad amare i paesi in via di sviluppo, come Enrico Mattei, così caro a suo padre, Ivano Matelicese. Ecco, in questo periodo il fronte, che è anche un fronte europeo mondiale, planetario, dunque quella delle vaccinazioni. Bene, Emanuele è stato un uomo che ha vaccinato un mezzo mondo con il suo ruolo di stratega della logistica dei soccorsi internazionali nei paesi in via di sviluppo. E allora perché in Italia ci sono così grossi problemi per vaccinarci, mentre tu sei riuscito laddove sarebbe stata follia pensare. Invece in questo paese così moderno, così civilizzato. Beh, innanzitutto buonasera. Il problema nell'Italia, in Italia si vaccina, si vaccinano bambini, si vaccinano le persone da sempre, quindi c'è un sistema che funziona. Purtroppo in questo momento il problema è globale, appunto certe problematiche. Ogni nazione, ogni stato più o meno sviluppato si è trovato ad affrontare appunto questa situazione. È una situazione senza precedenti, quindi forse il problema è stato più, non tanto da un punto di vista tecnico, ma da un punto di vista proprio di quantità. Vaccinare solo in Italia 60 milioni di persone con i richiami, quindi parliamo di 120 milioni di vaccini, quindi creare gli spazi, crearli in sicurezza, stoccare il materiale, ma innanzitutto farselo arrivare, perché in questo momento, innanzitutto all'inizio non c'era neanche un vaccino, quindi è già tanto che adesso abbiamo un vaccino. Quindi l'importante è farselo arrivare, farselo arrivare in quantità adeguata, stoccarlo appropriatamente e poi distribuirlo e poi comunque creare gli spazi per vaccinare le persone. Quindi tutto questo ha fatto sì che poi ci sono state delle carenze, io spero che poi nel corso delle settimane la situazione andrà a migliorare. Che consigli potrebbe dare agli italiani, al generale Figliuolo, al sistema organizzativo sul posto che sembra che faccia un po' acqua in alcune parti? In questi giorni leggiamo appunto di task force a sostegno anche di regioni del sud che hanno luoghi e località impervie. Io credo che il generale Figliuolo non abbia bisogno del mio consiglio, è un grande esperto di logistica militare, anche se poi la logistica più o meno è simile in tutti i settori, ma poi ci sono delle situazioni dove un conto magari è occuparsi di logistica per progetti sanitari o per altre situazioni. Quindi ci sono delle diversità minime, ma diciamo che la base è un po' uguale per tutti. Il consiglio che ormai purtroppo è troppo tardi, darlo e riceverlo, è la pianificazione. È importante, sarebbe stato importante, ma purtroppo lo stiamo pagando, lo pagheremo a nostre spese, ma in futuro io credo che bisogna far tesoro di questa esperienza e pianificare, pianificare per non farsi trovare impreparati e mettere le persone giuste al posto giusto. Io a volte credo che, adesso non voglio dire che, non lo so se in questo caso è successo o no, però anche in situazioni normali vedo che tante volte alcune cariche o alcune posizioni vengono un po' allargite così a livello politico. Invece io credo che in determinate posizioni alcune cariche che si va a occupare di situazioni particolari, quando si parla specialmente di sanità, di emergenza, bisogna dare questi posti a persone che sono tecnicamente preparate, che sanno quello che fanno o che perlomeno hanno una base per poi costruirci sopra un'attività. Ecco, come ho detto prima, questa qui è una situazione senza precedenti, quindi, però forse con un po' più di preparazione, di pianificazione e con persone messe al posto giusto, forse avremmo potuto fare un po' meglio. Lei è stato protagonista di campagne vaccinali in tutto il mondo, sulle frontiere del mondo, abbiamo detto prima, in Oriente, in Africa, ci vuole raccontare qualche episodio? Ho iniziato, appunto, come hai detto te Maurizio Pocanzi, ho lasciato un posto all'Eni, proprio perché dopo alcuni anni di esperienza all'estero, in Africa, non avevo più l'opportunità di lavorare all'estero e quindi il mio futuro sarebbe stato a San Donato Milanese. Grande azienda, mi ha dato tanto, però non era mio interesse rimanere dietro una scrivania. Quindi ho avuto l'opportunità di iniziare a lavorare con una ONG italiana e sono partito per la Somalia. E da allora, dopo circa cinque anni di esperienza con le ONG, ho iniziato a lavorare per l'Organizzazione Mondiale della Sanità e comunque sia prima con la ONG e poi ovviamente poi con l'Organizzazione Mondiale della Sanità mi sono occupato prevalentemente di sanità e una delle attività principali, tra le tante, era appunto prendersi cura da un punto di vista logistico e di acquisti delle campagne di vaccinazione. La mia ultima esperienza appunto sono tornato alla Repubblica Centrafricana, da Bangui, dove ero prevalentemente occupato nelle campagne di vaccinazione di polio e morbillo e poi dal marzo del 2020, nel giro di poche settimane, mi sono ritrovato coinvolto appunto anche con il problema del Covid, ovviamente no con le vaccinazioni perché non c'erano ma con l'approvvigionamento dei materiali e con la distribuzione dei materiali e l'allestimento delle strutture sanitarie per cercare di far fronte perlomeno a fare più teste possibili per identificare più casi possibili, se positivi o negativi, poi eventualmente curarli. E com'è andata la situazione? A Bangui? Eh sì, è così diversa da Roma o da Ancona. A Bangui avevamo già un coprifuoco alle ore 22, quindi il coprifuoco è stato portato alle ore 20, quindi è cambiato poco. No, purtroppo in Africa, o perlomeno in quella parte dell'Africa, una chiusura totale sarebbe impensabile, ascoltando, parlando con le persone, in quel caso lì veramente sarebbe stato morire a casa, perché la maggior parte delle persone escono al mattino per cercare di guadagnare quel poco che poi basta per comprare del latte per i bambini e un po' di cibo per loro e per la famiglia, quindi rimanere a casa più di due giorni significherebbe morire di fame. Quindi sono state prese, d'accordo con il governo, delle misure che erano poi le stesse prese nel resto del mondo, quindi chiusura dei cinema, delle discoteche, dei bar, dei ristoranti, e sono stati chiusi e non sono stati mai aperti, non c'erano orari, c'era l'asportosi, ma poi ci siamo presi comunque cura del personale, innanzitutto il personale sanitario, ma anche tutto quel personale che riguardava la sicurezza pubblica, come i vigili, la polizia, i vigili del fuoco e anche il personale delle poste, delle banche, insomma tutto quel personale che era a contatto con il pubblico, quindi in base ai test che abbiamo ricevuto, che non erano molti, ma man mano che ricevevamo, cercavamo appunto di testare queste persone e poi abbiamo cercato di approvvigionarci di tutto il materiale, dalle tute, ai guanti, dalle mascherine per milioni e milioni di quantità e poi distribuirle appunto a queste persone che per forza di causa maggiore, comunque erano a contatto con il pubblico. Un approvvigionamento reso difficile dall'affaire che pare sia esplodendo in Europa, oppure ne arrivavano troppo pochi in questi paesi a basso reddito, dei COVAX e così direi? Nella Repubblica Centafricana non si produce nulla, tutto viene via terra dal Camerun oppure via aerea da comunque nel mondo dove si possono acquistare materiali e ovviamente tutto è stato acquistato o c'è stato donato da qualche stato benevolo. L'idea principale nel mio caso è stata quella comunque di cercare più o meno a spanne di capire quante persone dovevamo supportare e in quel momento lì cercare di acquistare più materiale possibile in termini appunto di mascherine, di gel, di copri scarpe, tute, copricapelli, test, che comunque a parte i test che sono deperibili ma il resto non ha scadenza. Quindi ho detto acquistiamone il più possibile, anche perché la valenza politica del posto dove lavoravo non aveva una gran valenza, quindi non è che possiamo aspettare un supporto da qualsiasi stato perché poi possiamo, comunque il governo può dare qualcosa in cambio. Cerchiamo di acquistare il più possibile, se poi la pandemia, che all'epoca non era neanche dichiarata pandemia, ho detto se le cose dovessero andare male, comunque non è uno spreco perché li distribuiremo a tutti gli ospedali del paese, significa che magari per un anno, per 18 mesi avremo materiali sufficienti per tutti gli ospedali del paese e se invece le cose dovessero andare male, come purtroppo sono andate, siamo pronti per far fronte all'emergenza. Questa qui è stata un successo perché poi ci siamo trovati con i magazzini pieni e pronti a distribuirli da dove era necessario. Che cosa che non è avvenuta completamente in Italia, quanto è ritornato in Italia e qui nella sua regione, che lei ama così tanto, che impressione le ha dato l'attuale quadro. Ce la faremo? Sì, ce la faremo. Ma mi sono trovato, cioè non è stata una sorpresa, mi sono trovato, allora per me macerata, come hai detto, è il posto dove io torno, torno in ferie, ho i miei affetti, la famiglia, gli amici e quant'altro. Però ovviamente tutte le volte che ritornavo da un posto, macerata per me era dove rigenerarsi, dove riposare. In questo caso invece mi sono trovato nella stessa situazione, più o meno, che vivevo in Africa. Ovviamente qui sto un po' meglio perché i supermercati sono pieni, c'è la televisione, c'è internet che funziona e eventualmente c'è anche un'assistenza sanitaria di un altro livello. Però ho cominciato a vedere che comunque le persone si rendono conto che poi certe cose possono succedere. E poi ho trovato, insomma, chi è reagito forse con come bisognerebbe reagire con senso civico e chi no. Perché poi c'è stato un impatto anche sulla psicologia della gente, che si sta sempre di più mostrando, evidenziando. In Africa questo impatto della pandemia sulla psiche delle persone è così devastante come pare stia avvenendo nelle civilissime nazioni europee? Guarda, nella Repubblica Centroafricana no, perché comunque non c'erano così tanti casi positivi o perlomeno tutti quelli che c'erano erano asintomatici. Io nel mio ufficio dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ho avuto il 60% dei miei colleghi positivi e nessuno di loro era sintomatico, erano tutti asintomatici. Quindi a un certo momento ci siamo ritrovati in pochissimi per poter far fronte sia al lavoro che avevamo prima, che non era poco, perché comunque facevamo fronte a una campagna di vaccinazione per la polio e per il morbillo a livello nazionale e oltre a quello, morbillo e polio, e oltre a quello poi ci siamo trovati a far fronte anche a questa cosa nuova che si andava avanti un po' così. Per esperienza, diciamo, più o meno sarà più o meno la stessa cosa. Poi io comunque mi occupo di logistica, quindi facevo quello che facevo prima, con altre quantità e con altri obiettivi, ma il lavoro per me tecnicamente era lo stesso. Però la popolazione non l'ho trovata spaventata, anche perché comunque forse a differenza di quello che è successo in Europa, là dove ci sono stati casi, terapie intensive piene, ospedali al collasso, la Repubblica Centrafricana è un po' all'ordine del giorno questa situazione. Le terapie intensive forse c'erano due posti, quindi quelle erano sempre piene comunque, ma comunque, come ho detto prima, di casi sintomatici c'erano veramente pochi e anche il numero dei decessi, per fortuna, non erano così allarmanti come erano da noi, ma che come sono tutt'oggi, perché comunque è un conto, quando arriva il bollettino a 300, 400, 500 decessi, empaticamente c'è un certo impatto, mentre la Repubblica Centrafricana magari erano 1, 0, 3, 2, 0. Quindi c'è proprio una discrepanza nei dati dei deceduti. Sì. Quanto con la colonna dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, arrivavate in qualche villaggio sperduto, c'erano, diciamo, delle resistenze a vaccinarsi, come abbiamo visto? No, nella Repubblica Centrafricana no. In altre parti del mondo? In altre parti del mondo sì. Sì. In Afghanistan, per esempio. In Afghanistan? In Afghanistan tutto ciò che era portato dagli occidentali, ma la popolazione di per sé era contenta, però c'era chi non lo era, i talebani, ad esempio, cercavano sempre di creare questa situazione di terrore, sia quando si organizzavano le elezioni, che quindi creavano attentati nei seggi elettorali, o arrivavano a uccidere le persone che si regavano a votare, perché ad esempio tante persone in questi paesi non sanno scrivere e quindi non sanno firmare, o per evitare, perché appunto non si può attuare un sistema di controllo come abbiamo noi in Occidente, non si possono creare appunto dei sistemi di controllo e quindi per una persona quando ha votato, se non sa scrivere oppure non si può controllare se ha votato, onde evitare che votasse due o tre volte, gli si tinge un dito con dell'inchiostro indelebile e quindi quello era un segno che la persona aveva votato e quindi gli veniva tagliato il dito oppure veniva ucciso. E la stessa cosa, questo che è nel caso delle elezioni, ma la stessa cosa era nei casi delle campagne di vaccinazione, perché appunto queste campagne di vaccinazione, se prevalentemente sono per la polio, non c'è il centro di vaccinazione, sono gli infermieri, sono i medici che formano dei team, vanno nei villaggi, vanno nei paesi e vaccinano le persone porta a porta oppure creano dei piccoli centri di vaccinazione e sono visibili perché portano magari dei gilet dell'organizzazione, vanno appunto per mantenere la catena del freddo, vanno con questi contenitori appunto per mantenere il vaccino a temperatura adeguata e quindi erano facilmente riconoscibili e in molti hanno perso la vita. De fatto non è che la popolazione è contraria, la popolazione, sempre in Africa in alcuni punti la popolazione cammina per una settimana per far vaccinare i bambini, quindi una settimana di attività, sì per fare un'iniezione e poi una settimana per ritornare e poi vengono e ritornano per il richiamo e lo fanno con orgoglio, una marcia quindi? Sì, 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 poi quando c'è la politica di mezzo succede come sempre succede in Afghanistan. Beh, i bambini, i bambini al centro giustamente dell'attenzione, questi bambini che sono stati anche al centro di un bel libro di successo nel 2014, i martiri bambini, scritto da lei con la prefazione di Lorenzo Bianchi, inviato del resto del Carlino, che poi con quell'intervista famosa a Limandi Carmagnola indicò, previde, diciamo così, la strage in Assiria, di cui ricorre adesso l'anniversario, il triste anniversario e al centro la vicenda di questi bambini martiri, a cominciare dalla sua esperienza a Gaziantep, al confine tra la Turchia e la Siria e di queste famiglie che erano lì nei campi profughi organizzati dal governo turco e è stata una bellissima esperienza, poi da lei documentata perché è un fotografo che documenta, è quasi un fotoreporter, oltre che inviato a ONU, che ha migliaia e migliaia di fotografie, di immagini, e poi naturalmente i bambini dell'Africa, i bambini della Repubblica, delle Repubbliche Russe, con la famosa strage che tutti ricordiamo, dei terroristi islamici, vogliamo ricordare questa bella esperienza editoriale che ha avuto tanto successo soprattutto nelle scuole, dove lei è andato a presentare con Gaziantep. Beh sì, quella volta abbiamo poi deciso di mettere le due cose insieme perché io mi trovavo appunto nel sud-est della Turchia, a Gaziantep, dove esistevano, il governo turco aveva installato una dozzina di campi profughi, dove in ogni campo residevano dai 8 ai 12 mila profughi siriani. Era il 2012, subito dopo la guerra? Beh, subito dopo l'inizio della guerra, proprio pochi mesi fa, anzi pochi giorni fa, anzi, è stato celebrato il decimo anniversario dell'inizio del conflitto in Siria, e quindi io ero già in Turchia, ma per fare altre cose. Poi si è scatenata questa emergenza, quindi sono stato dislocato da Ankara a Gaziantep appunto per prendermi cura da un punto di vista della logistica sanitaria, insomma abbiamo aperto un ufficio e abbiamo cercato di supportare il governo turco nella gestione dei campi profughi, che poi in realtà erano delle piccole città, perché ogni campo aveva circa, appunto come ho detto, tra gli 8 ai 12 mila residenti, quindi bisognava dare un supporto oltre al cibo, anche assicurargli la sanità e l'educazione per i bambini e un po' di assistenza sociale agli anziani o comunque alle persone che residevano nel campo. E ricorreva il decimo anno della strage di Beslan, dove quando lavoravo a Mosca avevamo un ufficio periferico che era di supporto alla guerra in Cecenia, e quindi ritrovandomi appunto del materiale abbiamo messo le cose insieme, quindi abbiamo celebrato i bambini, comunque anche le persone, anche gli adulti che sono deceduti nella strage di Beslan e poi abbiamo cercato di dare una voce ai bambini, ma i profughi in genere, che in quel momento erano ormai in quei campi da due o tre anni e che purtroppo sono passati tanti anni e credo che siano ancora lì. Ancora lì, ancora lì. Poi nel suo lungo girovagare per il mondo, lei, questa è l'ultima domanda che le faccio, ha incrociato le orme di Giuseppe Tucci, il magistratese Giuseppe Tucci, erede di padre Matteo Ricci, in vicino Kabul. Sì, beh questa è stata una cosa buffa, divertente, che mi ha fatto molto piacere, perché conoscevo Giuseppe Tucci appunto in quanto maceratese e quando sono arrivato a Kabul nel 2002 acquistai una vecchia guida, perché comunque nel 2002 dopo la guerra è iniziata nel 1979 con l'invasione dell'armata rossa, poi c'è stata la guerra civile, poi il regime talebano, quindi in quel momento si veniva da 23 anni consecutivi di guerra e purtroppo ad oggi sono passati quasi altri 20 anni, la guerra ancora c'è. Però ovviamente era tutto crollato, però ho trovato una piccola libreria perché cercavo comunque una guida e ho trovato una guida stampata da Di Pre negli anni 70. Così sfogliandola, anche in quella guida lì veniva menzionato Tucci come questo famoso e importante esploratore italiano che negli anni 50 aveva iniziato degli scavi archeologici a Ghazni a circa 100 km a sud di Kabul. E siccome avevamo un ufficio periferico a Ghazni, io all'epoca mi occupavo di tubercolosi, e alla prima visita ho cercato di rintracciare qualche anziano e non ho trovato niente. Poi alla sera, insomma al tramonto, quando ormai avevo perso ogni speranza, un venditore di Gianfrusaie mi fa la solita domanda dove sei? Sono italiano. Ma conosci Tucci? Non personalmente perché è morto da qualche tempo, però io sono un suo vecchio collaboratore, all'epoca avevo 15-16 anni e c'è anche il mio collega che aveva un altro negozietto che vendeva qualcosa. E quindi mi hanno raccontato la loro esperienza con questo italiano che negli anni 50 appunto scavava. Italiano e profondamente maceratese. Profondamente maceratese che scavava nel mercato dell'oro, che adesso è tutto sotterrato ma sotto è pieno di materiale prezioso ma che purtroppo non è molto sicuro attivare una campagna di scavi. E c'è una foto sua con questi ex collaboratori di Giuseppe Tucci, veramente un cimelio fotografico. Si è vaccinato lei Emanuele nel frattempo qui a Macerata? Non sono così giovane, ma non sono neanche così vecchio, quindi purtroppo no, ma appena posso lo faccio. Ci sono categorie speciali che insomma vengono... Non ne ho voluto approfittare. Ah, non è benissimo. Allora, buon lavoro e buon ritorno nella sua Africa, che poi è tutto il mondo in fiamme. Grazie. Buona serata. Buona serata. Buona serata.